Grazie 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 Cercasi il call center La risorsa ha maturato esperienza nella manzione Si offre fisso di 300 euro più profigioni Società attiva nel settore del contact center Ricerca persone in stagio e tirocinio formativo Rimborso spese mensili Inviare curriculum vitae dettagliato Specificando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali Grazie 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 Sono condizioni di vita normali da accettare perché è così e basta. Non è vero che è normale, non è vero che ovunque è così. Una di noi, una ragazza di 28 anni che partecipava alle nostre feste, che frequentava i nostri stessi amici, che aveva i nostri stessi problemi, un bel giorno ha deciso di porre fine alla sua vita, alla sua personale battaglia. La madre ci ha spiegato che avremmo sbagliato a ricondurre tutta una decisione privata e personale, ci ha urlato invece che l'ha fatto perché si sentiva come noi. Si sentiva senza rete, senza una luce in fondo al tunnel, senza speranza, si sentiva sola. OIL, oltre il labirinto, è nato da questa rabbia, da tutti coloro che sono pronti a spendere tempo ed energia per un concetto che questa società vuole obsoleto e superato, il bene di tuo fratello, del tuo vicino, del prossimo tuo, comunque vogliamo chiamarlo. E allora con OIL, piaccia o no, tutto questo verrà azzerato. Siamo qui per riprenderci la parola, sfidando l'obbligo in cui ci siamo rientrati per troppo tempo. Riprendiamoci questo presente, che al futuro poi ci pensiamo. Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!